ok oh aspetta devo riccare oh avvia la registrazione 8 di ferro dia ah lui daria anche uno dia mi devi troppare il gold ce l'hai? per te io no però gli bastano 5 no ce l'ha ce l'ha ce l'ha no alu aspetta basta così per dia datemi tutto il vostro oro tutto il vostro oro non mi importa come si droppa ok basta ok mi serve ancora no la butterfly ok basta non droppate più ok dai tutto a me allora puglia no non tutto l'oro mi serve no ti è caduto però ma voglio guardare vabbè io non ho niente della roba almeno uno stick voglio prendermi ok perfetto non smirare ok ho preso io la roba è caduto anche l'altro è caduto anche l'altro vabbè ho lo stick lasciando roma cioè sono più forti di alpha io non c'ho abbastanza block quindi vabbè continuano a cadere un altro ok gg no di 5 c'è chi vince prima una farbole e un piccone io sono già qua e non posso fare niente quindi ci sta stando a lucas no 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 tornato sta smattando io ho sbagliato a buttarmi 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 io vedo tutti lo u vabbè nessuno si è droppato ok io sì però male perché mi ha dato male ma sta salendo uno di loro sì chi è quello never never perché ma perché tutto ma cosa stai facendo però ma vedi io non toco i b alla gente con un hit normale doveva cadere giù quello è italo magari se fossi salito prima cristor devi splittare e vabbè però c'è ingiocabile oh oh c'è uno dai 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 ma non prende che b è tutto fermo ma vedo ma che cosa è un'arriva un altro ma io perché faccio la lana sto laggando pur io non cato non cato 500 che vedo tutto fermo se io non so se devo ritiro anche ce n'è una persona qui a che nessuno tra virgolette o io voglio andare con la st che trovo ok broca preso meno che di lui quando io è vivo sotto ma guarda un hit con una spada un hit di uno stick di omenta voi vedete le persone non so cioè vi fate il tale a caso ma io più che citter cliccare addosso non posso fare nulla ai pixel una da sotto da sotto tanto non posso non posso non posso non posso sì sì di in 14 fate in culonia l'abbiamo mandato andate via no stiamo salendo io e lucas non possiamo via vai via ok vai davanti ma c'è uno no aspetta controllate se sono tutti e quattro sì sì gli ho kill 3 è morto cazzo via non vai via perché stavo già sopra qualcuno che porta l'acqua non scendi ci sta solo cricester io sto sulla loro base c'è proprio sul fuoco eh io non riesco a tenere l'acqua troppo ma abbiamo gli stick non serve l'acqua ecco tipo se mi trovo gente come questo che clicco addosso ed escono le parti se sei come quando uno si troppa vi troppate anche voi non state lì sopra non lo so perché io non avevo oro neanche nella cesta poi non c'è più pressure che senso per no mi pare che c'è ancora qualcuno ma stanno mid perché stanno mid che stanno ho fatto male e allora aspetta io mi nascondo nel ponte mi nascondo nel ponte portico qualcosa aspetta vado io vabbè vai tu dia eh vabbè lo lag becca lo lag becca vado io vado io vado io vado io vado io danni si è disconnesso si ricordano c'è 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 uno che sta venendo sopra ma non capisco chi è tanto mi sbalzerà via perché laggo troppo tu laghi ecco vedi unit mi manda in culonia fra ho capito ma se tu laghi io che cosa sto facendo e che te devi laghiamo entrambi però tu di più io vedo stop si è buttato cioè non si è buttato si è buttato a metà no no l'ha killato l'ha killato andate andate al 3 dia andate al 3 dia cosa si fa per 10 euro perché non sono forti siamo noi che siamo down perché hanno fatto i gironi a posto ah beh a parte ma c'è uno sotto si quello che non si muove quello che non si muove si possono usare le scale mi rende ok ok qualcuno mi spavano tutt'anni davanti che paura raga mi spavano tutt'anni davanti che cazzo di paura porco aspetta lascialo salire lascialo salire quanto lagga ha rimpianto ah lagga ha rimpianto io non capisco ma voglio aspetta fermo 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 mi ha tolto la trappa mi ha tolto la trappa non hanno più la trappa c'è l'acqua eccolo aspetta sta salendo un altro fate la piattaforma dell'acqua io non so come si fa potete vincerla vabbè ormai che sui dammi torna aspetta sta salendo fermo 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 porto una farba l'acqua toglietevi che cazzo vuoi ho sbagliato vado sto trovando un botto che succede botto ho pensato una mamma si tanto ha messo guarda io sto distruggendo la tower per farvi capire toglietevi la trappa toglietevi la trappa ancora ma la tower ci serve almeno questo ok uno da sotto chi è quello là oh arriva vai attento di asali toglietevi la trappa perché ovviamente e se io dico toglietevi la trappa qualcuno la devi togliere lo santo ah vai 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 giudici giudici faccio un pochino al final l'ho letto fatti un tunnel bro no non è centrato andate gli altri dia aspetta salendo uno sto salendo uno sto salendo sto salendo salendo vai gli altri dia ok l'ho preso da dietro non sappiamo ancora dove sta posso in un posto ottimo per vedere la gente che viene con le scale perché non se ne accorgono vedete tutti i quattro ma sto qua madonna non ne ho preso un altro no vuol dire la trappa ancora aspetta io li sto tenendo io li sto tenendo quando vengono dalla scala comunque mi sa che ci sono gli spec perché cioè so nel generatore oh no ha scoperto dove stavo aveva l'armatura migliore giustamente non potevo fa niente ho perso la pressure però sono stato un bel po' ce l'ho perso sì no non credo ma perché abbiamo degli smeraldi mi ho preso ma what ma 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 no cazzo c'è che ci fa questo scherzo qua ma ma noi abbiamo pressure oh l'hai killato l'hai killato l'ho persa l'ho persa i riperoni oh comunque mettete l'ora nella cesta voglio farmi almeno l'armatura in iron che non trovo mai niente e non trovo ancora niente nella cosa eh no in realtà no stavolta no ripianto ma dai ok l'ho sbalzato pure io però mi serve lo stick manca non sono guidato tra gli stai ok almeno non sto allagando ok funzionare è morto emerald 2 già chi rimpianto oh l'impianto da sotto rimpianto da sotto c'è qualcuno in base raga c'è qualcuno aspetta io mi metto qua oh non hanno l'anston aspetta in teoria dovrebbe sapere che non dovrebbe sapere che sto qua no ma ha schifato siamo siamo 18 melendati oh ragazzi è morto no 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 non è che è morto ce lo facciamo è uno di vita è uno di vita è merda e mori ah che cazzo tre anni per morire ditemi se ci stavrò in cesta ok manca uno mi son fatto dalla ok sto venendo da sotto o da sopra è da sotto è quale è sopra e sotto ok non sono un problema da killare vabbè io sto dando da sopra via dietro di te c'è uno sotto c'è uno sotto dia dia no è danny non viene da te non viene da te no ti ha visto ma non viene ok no danny sta venendo in base raga c'è qualcuno in base ok killato 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 lo trappi questo lo trappi lo trappi ma cosa ho visto la fight ho visto la fight che era quel verso un animale raro io io che devi rompere ah non è solo dire aspetta allora proviamo a killare questo qua che sta sulla scala e poi scendiamo e proviamo aspetta vado io vado io vado io se capiscono che non ho blocchi ok hai killato danny danny deve essere blocco trappi xd deve fare un drop decente io fermo 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 ma quella seconda è hit ah ecco allora è normale piazza col blocco bravo uh bravo vai su quello vai su quello attento dietro ok killato marcel ci abbiamo sei però li killio killati killati bravi bravo luca 12 kill 15 10 300 allora aspetta oh e fermi devo salvare la clip no 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 allora aspetta finale uno poi no no in realtà no era best of five no tre eh no ho quittato perché dobbiamo cioè non è possibile stiamo giocando di nuovo con la stessa stupido che senso giocano vabbè fratello non restartiamo come cazzi sua aspetta dammi loro dammi loro un altro po' di oro ok sono seri sì sono seri sono seri raga quittate quittate cosa state facendo quittate quittate stai zitto madonna se perdete si usciamo perdiamo lo stesso cioè ci fanno giocare non giocate perdiamo se perdete ci riusciamo madonna che bambino di merda fisico mi sono andorre raga non ho più blocchi sotto da sotto da sotto ok che cosa io sto mid raga io sto mid qualcuno che mi butta blocchi oh aspetta oh aspetta eh Lucas buttami blocchi buttami blocchi diamante stai zitto io santo no Giovanna vabbè chrisos come da boia io mi voido perché tanto non posso fare niente appunto io vinciamo pure questo allora no se lo vinciamo si devono vergognare mi sto distruggendo hai detto che mi sto distruggendo di te è scommezza che dura io sto arrivando con altri blocchi aspetta com'è la situazione aspetta vengo 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 no non mi ha funzionato il salto proprio porco tranquillo tranquillo non fanno nulla sono troppo scarso dovevo comprarla la tua tastiera forco vai pure i diamanti fai quello che vuoi tanto lo diamo sicuro perché se li ritenete vado ai diamanti se li ritenete vado ai diamanti che magari devono andare ai diamanti però portare le cose per romper il letto ah danni si sta partando ma non mi fa il salto aspetta se sei fermo non mi fa il salto fazzoletti perfetto eeeh no posso andare ai diamanti allora sì o no ok non vado ai diamanti ok posso andare ai diamanti quindi sì o no io sto continuando a andare se vuoi ok vado ai diamanti vado ai diamanti vabbè va a uscire grande i tasti di merda sta tastiera di merda sta citando ma seriamente mi ha beccato che fortuna basta non mi fanno i tasti raga non mi fanno i tasti show ce la fai almeno fai giocato con una tastiera rotta se non riesce a saltare fai il punticello così non devi saltare e lo sto facendo non sto saltando non mi funzionano i tasti non è colpa mia danny si è salvato che brutta mappa stavamo danny è arriva mid ma almeno state vincendo figa ho 19 kill ma sono così stupidi c'era uno che stava arrivando in base soltanto che è caduto da solo ho 10 kill sì 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 faccio con il legno direttamente no non le scale ah raga faccio un attimo delle robe aspettate allora uno due tre sei morto per la prima volta l'unico sai qualcosa bravo molto bene tanto ho preso team per 10 minuti ho sbagliato un blocco però vabbè non che non è che è però non so perché posso sono andando via vai a 3d se vuoi non si riconoscere ma già stavamo vincendo cosa fa che ti interessa madonna ma porco dio ragazzi andate voi ai diamanti io non ci posso andare con sta tastiera di merda c'è avremmo vinto anche in tre non so se lo capite ma avremmo vinto anche in tre non è che cambia molto ma tanto si c'è comunque christopher faccio i diamanti io non ci posso andare con sta tastiera vabbè non ce l'ho sono più morto aspettate 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 ma che chi mi prende a parte che mi è scomparsa la sfatata l'inventario e me l'ha sostituita con le shakers perché ma sta arrivando uno sta arrivando uno sta arrivando tranquillo e ti ricordo che sono scarati ma come sei salvato sei salvato sul ponte di sotto non ci credo che significa sono 3 di oro sono 3 di oro se così cringe no beh sto io sul letto ora mettono l'acqua per forza vai gli stampa tutti gli stampa tutti oh c'è uno che si è droppato facci tu che io non posso andare con sta connessione tra connessione o da stiera non so che è peggio forse non ne faccio neanche uno ora si buttano per forza ora si buttano per forza intanto da lì si diventano one hit ok stanno sulla base aspetta Cristor puoi stare tu sul letto ok stai un attimo tu sul letto Cristor non serve eh no l'ho visto l'ho visto l'ho visto sono morto dalla nascita quando hanno messo l'acqua malissimo ma che cazzo dite mi tiro dai ma che cazzo di è vabbè acqua è inutile vabbè io vado da qua sopra teoreggio immarcinatela tipo se vai bacio si ma ricorda che sono tipo 10.000 blocchi di lattezza ok gli sto salendo su però gli sto salendo addosso io ho bloccato l'acqua e non muori ok non prende che è visto qua e muori ok li ho chiedati entrambi chiedati entrambi ho preso il super eh vabbè ma non riesco a resistere adesso oh dio vabbè no l'ho chiedato tutti e quattro cercate di bloccare l'acqua eh aspetta io vado a bloccare l'acqua solo che ci vorrà un bel po' ah ce la faccio io faccio io l'ho bloccata hai già bloccata si si ok allora faccio la minor fatiga aspetta tranqui eh in teoria crystal l'ha tolta ma come fa ad esserci ancora crystal ah no sta cadendo sta è l'acqua che è lenta a cadere ci dobbiamo arrangare aspetta mi sta arrivando uno addosso mi sta arrivando uno addosso ok no mi ha schippato mi ha schippato sta arrivando in base da sopra aspettate aspettate ah è Mars può avere lo stick può avere lo stick dio merda e essere ancora vivo a culo eh vabbè no si è droppato si è droppato eh io son morto perchè ero one hit praticamente aspetta sono uscito dalla base ok si è andata l'acqua si è andata l'acqua ci sono io oh c'è uno qua dietro ok eh no lo vedo lo vedo salgo solo che ma non ci sta nessuno sul letto raga è rischioso e infatti vado 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 killato 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 ok crystal sei tu sopra se riesci oh c'è uno aspetta 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 oh ma ma guarda con lo stick sta arrivando è nel letto è nel letto è nel letto l'hai killato è un petto di risorsi per un armor no no io non ho visto niente ma c'è uno sopra ok killato no è morto è morto è morto ok morca perchè non mi faccio mai le scale aspetta c'è l'oro nella cesta pigliatelo ma c'è ancora uno sopra si si danni 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 non è un problema perchè io sono è ancora vivo ma vanette ma dai cioè prima di morire ha messo la torre dai c'è pure non mi dire che ci ha rotto la bardatura perchè oh c'è uno c'è uno qua è vanit ma che vanit che ho detto sette hit e lo so l'ho killato io fra cioè questi ci hanno quasi pagato la bardatura cioè si stavano per mettere nella bardatura con la lana hanno sostituito alcuni blocchi questi prendete la base non puoi schifare io sto levando la torre rossa raga oh oh si è chiuso si è chiuso ok non si è chiuso non si è chiuso ho killato ah no l'hai killato tu vabbè e fra io sto rompendo la torre cioè guarda che merda ci abbiamo in base e aspetta allora ci rimetto il vetro abbiamo l'opera ci rimetto il vetro vetro no lo vedo a prendere perfetto c'è qualcuno sopra aspetta reggimelo un attimo reggimelo un attimo io mi metto il vetro si si oh arriva arriva no e no e no c'è una scala di merda aspetta non prende che vieni cos'è vai killato ok l'ho killato raga chi ci sta qua ok e aspetta vabbè crystal spacca tu qua io devo andare io sono già sopra no ok e chi sta in base sa che ma c'è uno soprattutto no no aspetta chi è quello vero tutti e quattro vero tutti e quattro no c'è uno no scherzavo scherzavo io santo danni quanto lag non c'è quanto tutti madonna mia largano tutti quanti gesù cristo provo a schippare ora momento ce n'è uno sopra ce n'è uno sopra momento cruciale sono tante persone che sono permesse sopra ciò sta in base ma non riesco da solo c'ho la connessione di merda raga sta sopra non posso stare da solo in base non l'ho visto ovviamente non l'ho visto oh stiamo prendendo no con con l'acqua porco non muore oh oh fastidio della trappa così tu muore raga raga ditemi che sono tutti e quattro vai no no c'è uno che viene c'è uno che viene c'è uno che viene guardi sono in base ok danni e nabbo di merda ok GRANDI FRAAA prende subito gli smeraldi non lasciatemi io sono sulla loro base ma loro non sanno che sto qua forse posso fare forse posso fare una kill ecco ora esce uno perché mi hanno sentito infatti spammalo 3v4 cazzo spammalo una volta colpisce duro dai 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 uscite dalla base coglioni perfetto COTO appena è uscito uno dalla base l'ho fatto secco io ho appena killato tra l'altro ah quello che laggava vuoto sì tanto abbiamo vinto non gli smeraldi però abbiamo fatto uno in un 4v1 quanti kill avete? 14 19 me ne sono fatti 14 allo start per tutto il tempo in quelli tenuti ok io ci sono quasi proprio vero proprio vero ok io so soltanto la spada in pietra quindi vabbò no aspetta non ancora basta che basta che uno esca anche di poco fuori c'è uno in ladder ah no aspetta aspetta fra appena uno viene un po' più qua verso quest'angolo qua vai non scherzavo che cazzo vuole fare con sta fireball? ok non ce la faremo a killarli tutti quanti perché stanno messi troppo bene chi vogliamo targettare? per me rimpianto aspetta rimpianto aspetta appena si fa più avanti rimpianto io voglio tracchettare una to marsala perché mi sta accusando no vabbè fra rimpianto rimpianto aspetta quello che si mette più avanti vabbè vai 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 vabbè ragazzi però dico comunque bravi e bravissimi che gringi la donna mia io ho fatto una roba bellissima bravo hai visto che non perso subito a se posso scriverglielo se vuoi si può fare subito un controllo a 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